Il Trestina supera 1-0 il Montevarchi ritrovando la vittoria dopo tre turni senza subire reti per la prima volta. Si ferma invece a 6 la striscia dei risultati utili di fila dei Toscani che vengono raggiunti in classifica dai Bianconieri di Ciampelli che deve rinunciare a Tozzai e pensando al derby di mercoledì con il Sansepolcro lascia in panchina Capitano Gramaccia. Schieranno un 4-3-3 con Fiorenza in porta, Ierione con Tucci Sensi e Dottori in difesa, Omoria, Menghi e Farnetti in mediana con Dinolfo, Tascini e Belli a formare il tridente offensivo. Nel Montevarchi non c'è Benucci e Calori punta su un 4-2-3-1 con Spurio fra i pali. Artini, Franca, Lanci, Locatuorto e Quaresima nel reparto arretrato. Pardera e Muscas a centrocampo con Lischi, Casagna e Boncompagna a supporto di Priore. Arbitra Bruzzone di Enne, la sua non sarà una direzione di gara che passerà agli annali. 12 minuti e la prima chance di marca Montevarchi con Priore che fugge sul filo del fuorigioco ma conclude sul fondo. Replica tristinese affidata a Dottori dalla distanza, poi si accende Dinolfo. Ma il suo mancino non trova lo specchio. Il primo tempo è tutto qui, mentre la ripresa si apre con il gol che decide la gara. La combinazione fra Dinolfo e Tascini al minuto 51 è fuori categoria, con il 10 che cucina e il 9 che apparecchia. E il 10 che serve di nuovo in tavola, la magia che strappa gli applausi del Casini. 1-0-3 stine, terzo centro in campionato per Dinolfo. Il Montevarchi prova una reazione ma la chiusura di Sensi, partita superlativa la sua in tandem con Contucci, vale un gol. Gol che sfiora ancora il Trestina quando Belli cerca e trova Tascini che gira di prima ma alto. Applausi comunque come quando un minuto dopo Dinolfo inventa per Omoria che arriva con qualche istante di ritardo al tocco vincente e Spurio vince il duello in uscita. Dinolfo pesca nel gonnellino un'altra giocata delle sue che porta Belli al tiro con il destro. Palla che gira sì ma non abbastanza per finire in rete. Il pubblico del Casini applaude anche perché sa che nel finale ci sarà da soffrire. All'ottantunesimo così priore grazie a Fiorenza inventandosi questa acrobazia sul cross di Muscas. Poi Franca Lanci manca l'inzuccata vincente al minuto 89 e Fiorenza fa tremare i suoi nell'unico svarione della sua gara uscendo a vuoto al minuto 94. E si arriva così al novantasettesimo quando il neo è entrato Conti ha sui piedi la palla del possibile pari ma la sua conclusione centra la barriera. Triplice fischio di buzzone, mister Ciampelli può correre come un forse nato verso la moglie Maria Sole cuoca sopraffina e vera artefice della vittoria bianconera. Grazie a tutti.